Anche quest'anno Pordenone ha celebrato la giornata della memoria che ricorre il 27 gennaio istituita in commemorazione delle vittime dell'olocausto. La giornata è iniziata questa mattina con la deposizione della corona d'alloro e gli interventi delle massime autorità provinciali. A seguire i partecipanti in corteo hanno raggiunto la sede della provincia in Corso Garibaldi per la deposizione della corona alla targa commemorativa giorno della memoria. Poi in sala consigliare sono state consegnate le medaglie d'onore con la successiva proiezione le casermette di via Molinari. Il 27 gennaio è per la nostra comunità, per la nostra nazione, per l'Europa un momento al solito di grande riflessione. Quest'anno lo definisco quasi imbarazzante il 27 gennaio perché quello che è accaduto durante il 2015 ci fa capire che è proprio vero che il nazismo non è mai scomparso e che assume forme di attualità sempre impreviste. Quello che sta accadendo in Medio Oriente è una vera forma di nazismo e al solito ci chiediamo noi verso cose di questo tipo. Come ci comportiamo verso le persone che devono scappare da lì? Cerchiamo noi stessi di capire, riflettere, usare bene la memoria. Come diceva Primo Levi, se la memoria del male non cambia l'umanità a cosa serve la memoria? Questo penso sia il motto della giornata. Al Museo Civico d'Arte di Palazzo Ricchieri per l'occasione è stata allestita l'esposizione dal titolo Mario Moretti, ricordi di prigionia, la forza salvifica dell'arte, dove sono esposti oli su tela e tavola, chine, tempere e acquarelli su carta e il diario di prigionia di Mario Moretti.